Una buona serata da Tantanotizia di Imperia TV e da Andrea Pomati. In prima pagina anche oggi torniamo a occuparci delle vicende della fondazione di Banca Carige. Ieri pomeriggio infatti a Genova si è tenuto l'incontro fra il Presidente della Regione Claudio Burlando e i responsabili degli enti locali interessati, fra cui Comune, Camera di Commercio, Curia, Imperiese e Savonese. Il Presidente Burlando ha chiesto che i consiglieri d'indirizzo che hanno avanzato la sfiducia al Presidente della fondazione riflettano su azioni che potrebbero danneggiare la banca, portando anche alle dimissioni del CDA da poco nominato di Banca Carige. Un invito però caduto nel vuoto, infatti i 14-17 firmatari della sfiducia hanno ribadito la loro posizione chiedendo addirittura che il Consiglio venga convocato entro sabato proprio per sfiduciare Flavio Repetto, Presidente della fondazione. Ascoltiamo comunque l'appello di Burlando, rilasciato ieri sera. Sentiamo. E quindi invitiamo tutti i consiglieri di indirizzo a valutare con molta attenzione i tempi e i modi delle loro scelte affinché esserano e chino documento, danno alla banca in un momento molto delicato. Quindi dico a tutti, state attenti a non far saltare un meccanismo che nell'economia Ligua è molto importante. Poi noi non possiamo decidere cosa fanno e quando lo fanno. Però credo che guardare più all'interesse generale che non magari alle pulsioni, una guerra tra fazioni, sia una cosa giusta da chiedere. Staremo poi a vedere che cosa accadrà, appunto, come avete sentito. Nonostante questo appello di Burlando, c'è la richiesta di convocato entro sabato il Consiglio di indirizzo della fondazione per sfiduciare il Presidente Repetto. Vedremo, vi aggiorneremo ovviamente. Sciopero dei treni dalle 21 di domani alle 21 di venerdì per i treni regionali. Saranno garantiti i servizi essenziali assicurati per leggere le fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari fra le 6 e le 9, tra le 18 e le 21. Per quanto riguarda i treni nazionali, saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito trenitalia.com. Le ferrovie hanno comunque assicurato la normale circolazione delle frecce. E sempre in tema di treni, c'è un grido d'allarme per il continuo taglio dei trasporti ferroviari fra Liguria e Piemonte. Nelle prossime settimane i collegamenti infatti subiranno pesantissime riduzioni con l'eliminazione addirittura di 6 delle 8 corse della linea Cuneo-20 miglia. Vediamo. E' sempre più preoccupante la situazione dei collegamenti ferroviari tra la Liguria ed il Piemonte. I continui tagli annunciati proprio dal Piemonte comporteranno una grave penalizzazione per la riviera di Ponente. Se qualcosa non cambierà nel frattempo, è certo che dal 14 dicembre, con il cambio orario, la Liguria si vedrà cancellare 6 coppie di treni che percorrono durante il giorno la linea Cuneo-20 miglia rispetto alle attuali 8 coppie. A questo si aggiungerebbe il taglio delle attuali 3 coppie di treni di metà mattinata, delle 14 e delle 18, lungo la tratta 20 miglia-Taggia e di tutti i prolungamenti dei treni in arrivo da Torino e diretti a 20 miglia che dal 14 dicembre si fermeranno a Savona. Un piano di tagli per nulla indolore, quindi, che si va ad aggiungere alle sforbiciate unilaterali già assestate dalla regione Piemonte nei mesi scorsi. La riviera di Ponente non può pagare un prezzo così elevato, lasciando scoperti oltre 2.000 passeggeri. I tagli sono molto pesanti perché viene drasticamente ridotto il servizio nella linea Cuneo-20 miglia, che da 8 coppie di treni passiamo a 2 al giorno. Penso che la riviera di Ponente non possa pagare un prezzo così elevato e quindi alcuni di quei treni andranno sicuramente rimessi perché sono in fascia molto importante, di grande afflusso. Insomma, abbiamo anche verificato, si tratta di oltre 2.000 passeggeri, insomma, che non possono essere lasciati a piedi. E nelle prossime ore sono previste nuove riunioni, anche insieme ai sindacati, per fare il punto della situazione. Una situazione che, come sempre, si riversa sulla pelle dei cittadini. Dovremmo decidere cosa fare, insomma. Pare difficile che il bilancio a cui mi sono rivolto possa integrare risorse aggiuntive a quelle che già avevamo stabilito, che poi erano di fatto quelle... CGL e Cisleville, in accordo con l'Assemblea dei Dipendenti della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, hanno proclamato uno sciopero dei concerti, una protesta singolare con i professori che a metà concerto interromperanno l'esecuzione. Al centro della presa di posizioni i ritardi, le mancate ritribuzioni degli stipendi ridotti ormai al 50%, il mancato versamento del TFR dal comune di Sanremo alla fondazione e anche una progettualità da parte del CDA ritenuta insufficiente. Mancano due giorni, la scadenza dei 20 giorni entro i quali il Presidente della provincia Luigi Sappa potrà decidere se ritirare o lasciare invariate le sue dimissioni, quindi rendere definitive e far cadere l'amministrazione provinciale imperiese. Intanto qualcuno ha parlato della possibilità di larghe intese per salvare la situazione, ma da Riccardo Giordano del PD sentiamo a che risposta è arrivata. Riccardo Giordano, stanno per scadere i 20 giorni di tempo entro i quali il Presidente Sappa potrà decidere eventualmente di ritirare le dimissioni. Come state analizzando questa situazione politica? Noi siamo osservatori neutrali del travaglio che in questi mesi sta attraversando la maggioranza e l'esecutivo in provincia. Apprendiamo dagli organi di stampa, di volontà degli assessori di rimettere il loro incarico nelle mani del Presidente per favorire un rimpasto, per favorire la possibilità di una ripartezza. Noi, come avevo detto peraltro ai microfoni e in una trasmissione qua a Imperia TV, noi non abbiamo né mai chiesto di far parte di larghe intese, né abbiamo mai varcato la soglia dell'ufficio del Presidente di Missionario Sappa per cercare soluzioni rabberciate. Speriamo che tutto questo confabulare fra le parti dell'ex maggioranza di centro-destra in provincia poi a fine porti a delle soluzioni che stiano in piedi, che siano sostenibili per non essere magari fra un mese di nuovo a ridiscutere delle stesse cose. Non sappiamo quindi quali saranno gli sviluppi e l'evolversi della situazione. Ci rimettiamo a sottolineare che ci sono questioni talmente grandi, talmente importanti sul tavolo che bisognerebbe dare soprattutto a tutela di chi da queste decisioni fanno dipendere un po' il futuro del loro lavoro, della loro famiglia e dare qualche garanzia, qualche motivo di tranquillità in più. Ribadite il no a larga intesa. La larga intesa, scusatemi per il gioco di parole, come un qualcosa che risponde a logiche consociative fino a se stessa, a noi non ci è mai interessata. Se non c'è la possibilità di un governo, di una maggioranza all'interno del centro-destra e il Presidente ne prende atto e crede che si possa sedersi a un tavolo ma su questioni di merito, su questioni di merito nelle quali noi vogliamo mettere il nostro punto di vista e la nostra impostazione, la nostra linea politica e quindi su questioni che rimangono scritte e non soltanto dette a voce e quindi su quella base lì si può lavorare per una sorta di governo istituzionale dell'ente noi non diciamo di no a priori, ma deve essere chiaro che tutto passa attraverso l'ammissione della fine e del crollo di un'amministrazione che non ha saputo dare le risposte adeguate e con la richiesta di una partecipazione del Partito Democratico che responsabilmente si può mettere a disposizione per risolvere le questioni che in questi anni non sono state risolte. Nessun provvedimento di chiusura per il centro massaggi di via 25 Aprile a Imperia che è anzi assolutamente in regola con le autorizzazioni del Comune e anche in servizio una responsabilità abilitata al massaggio professionale. Il dato emerge dopo la notizia che si era diffusa nei giorni scorsi circa la richiesta di chiusura per tre centri massaggi orientali del capoluogo avanzata dai NAS. In realtà dunque il centro di via 25 Aprile non rientra in questa casistica. I responsabili hanno anche respinto con forza le allusioni che sono scaturite su alcuni organi di informazioni inerenti massaggi ardo o peggio ancora proprio chiaramente parlando di prestazioni sessuali a pagamento da parte dei dipendenti. Insomma i titolari ribadiscono questo è un vero centro di massaggi e nulla di diverso, nulla di più. Scontro frontale nel primo pomeriggio di oggi sul cavalcavia di Ventimiglia all'altezza di Roverino a causare l'incidente un francese di 50 anni che ha imboccato la strada contro mano e si è schiantato contro un'autovettura con a bordo due coniugi. L'impatto è stato violento tanto da causare l'esplosione degli airbag e delle entrambe le auto. Tutti gli occupanti sono stati trasferiti in ospedale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Ci fermiamo un attimo per un breve spazio pubblicitario ma ci rivediamo fra poco. Eccoci di nuovo insieme, andiamo avanti, torniamo a parlare della sospensione del calendario venatorio disposta dal Consiglio di Stato perché in Regione si sta cercando di trovare una soluzione in tempi rapidi. La caccia potrebbe anche essere riaperta sabato in giornata. Domani è stata convocata una giunta per presentare un nuovo calendario venatorio. Intanto prosegue l'occupazione dell'Aula consigliare da parte del Consigliere regionale leghista Francesco Bruzzone che ha confermato che non fermerà la protesta fino a quando non ci saranno certezze. Potrebbe riaprire sabato in giornata la caccia in Liguria dopo la sospensione disposta dal Consiglio di Stato in seguito ai ricorsi presentati dalle associazioni degli ambientalisti. Domani in Regione si riunirà la Giunta per presentare un nuovo calendario venatorio che potrà essere ratificato la mattina seguente dall'apposita commissione già convocata per le nove e mezza. Quindi se non ci saranno intoppi la caccia riaprirà sabato in tarda mattinata. Il provvedimento venerdì stesso va in giunta quindi se c'è l'accordo, se la commissione approva e la Giunta approva già sabato potrebbero andare a caccia. Intanto nell'Aula consigliare prosegue l'occupazione di Francesco Bruzzone capogruppo della Lega Nord armato di Sacco a Pelo e Panini. L'azione dell'occupazione del Consiglio regionale, io sono qui, avete acceso le luci perché me l'avete chiesto, fra un po' le rispegniamo, rimarrò qui al buio finché non potrò uscire dall'Aula del Consiglio regionale per poter andare a caccia, sono un cacciatore. Le potesse sono infinite come quella di un cittadino onesto che ha necessariamente la fedina penale pulita e paga le tasse, paga delle tasse in più rispetto ad altri per poter esercitare un'attività e una volta che ha pagato arriva uno e gli dice non lo fai più. La sospensione della caccia ha infatti scatenato una serie di reazioni e polemiche. Il consigliere regionale del PDL, Marco Scaiola, ha definito questa decisione assurda e grave perché i cacciatori oggi si trovano ad aver pagato il tesserino venatorio senza avere la possibilità di andare a caccia. Scaiola ha inoltre già chiesto che venga ripresentato lo stesso calendario venatorio contestato a testimonianza del buon lavoro svolto dal Consiglio regionale. Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione nel comune di Albisola Superiore con decorrenza immediata e presumibilmente fino al 18 ottobre le fermate del trasporto pubblico locale di Corso Mazzini nei pressi del ponte della Ferrovia verranno spostate di alcuni metri. Queste variazioni saranno valide fino a domani sera. Durante i sopralluoghi disposti dal comune di Sanremo nei pressi scolastici cittadini per esaminare criticità di servizi sono emerse alcune problematiche nella struttura Nobel alla foce. Oltre a lavori di piccola manutenzione pesa infatti il problema della mancanza di acqua su un intero piano. Il comune ha assicurato che i lavori partiranno al più presto nessuna criticità particolare è stata invece riscontrata nei complessi Scaini e Montessori nel quartiere San Martino. Martedì prossimo l'assessore Antonio Fera e i tecnici visiteranno invece il plesso scolastico di Poggio. E si sono conclusi nella giornata di ieri a Sanremo gli interventi sulle palme infestate dal famigerato punteruolo rosso. L'intervento di risanamento ha interessato la zona del Porto Vecchio e l'attività è stata coordinata dal Servizio Beni Ambientali del Comune. Completato l'intervento di risanamento sulle palme di Porto Vecchio colpite dal punteruolo rosso. Per tutta la giornata di ieri infatti si sono svolte le operazioni per cercare di salvare sette palme su venti sistemate fra i baretti e i ristoranti che si affacciano sulla zona di Porto Vecchio. Si sono conclusi così i lavori su sette palme esemplari di canariensis infestati dal famigerato punteruolo rosso coordinati dal Servizio Beni Ambientali del Comune. È stato allestito un cantiere di grandi proporzioni che ha visto impegnati otto operatori con l'utilizzo di due autoscale, due autocarri, un biotrituratore. Grazie alla collaborazione dei gestori dei locali circostanti che hanno rispettato la mattinata di chiusura sono state rissanate attraverso una dolorosa operazione di dendrochirurgia, le sette palme infestate. Tra queste, purtroppo, quattro hanno evidenziato un'infestazione talmente profonda per cui le operazioni di taglio probabilmente non consentiranno la ripresa vegetativa. Per le altre tre, invece, ci sono buone speranze di poterle salvare evitando l'abbattimento. I lavori conclusi nel primo pomeriggio hanno riportato nel complesso un risultato soddisfacente per fronteggiare il fenomeno che sta distruggendo il ricco patrimonio nostrano di palme di tipo canariensis, il Servizio Beni Ambientali rinnova l'appello a tutti i proprietari delle palme colpite destinatari di una specifica ordinanza di intervento ad adoperarsi nel più breve tempo possibile a rispettare le disposizioni impartite. Ora si dovrà aspettare la riattivazione del processo vegetativo, sperando che l'intervento non sia stato inutile, altrimenti le piane dovranno essere appunto abbattute. La situazione potrebbe inoltre peggiorare poiché nelle zone private non si interviene subito. L'amministrazione comunale con Italia ha interrotto la cura proprio a causa dei costi ed il privato temporeggia, favorendo quindi la diffusione del punteruolo rosso. L'Ufficio Beni Ambientali ricorda che il Comune collabora con il Servizio Fito Sanitario Regionale per individuare e segnalare eventuali anomalie nelle piante. Dopo i cinque jackpot per complessivi 46 mila euro centrati da altrettanti vacanzieri nell'ultimo fine settimana, ieri nuova Maxi Vinci dal casino di Sanremo. La fortuna ha baciato un turista residente a Salerno che è stato premiato alle slot con un assegno da oltre 19 mila euro. E che dire, beato lui. I festeggiamenti per i 90 anni di Imperia si apprestano a entrare nel vivo. Lunedì prossimo ci sarà il Consiglio Comunale Solenne, preceduto al mattino dalla celebrazione della Messa. Domenica sono invece in programma appuntamenti con Auto di Epoca e Sport. Il quadro degli eventi con l'assessore Sara Serafini e il Presidente del Consiglio Comunale di Imperia, Paolo Strescino. L'assessore Sara Serafini e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Strescino stanno lavorando, possiamo dire, in squadra per questi festeggiamenti dei 90 anni di Imperia. Assessore Serafini, ci sarà fra l'altro un concerto al Teatro Cavour, un momento un po' per tutta la città, ma molto ampio. Assolutamente sì, oggi sono venuta a presentare il concerto del Teatro Cavour che avverrà appunto sabato sera alle ore 21, è un concerto gratuito e ci piace fare spot a un evento come questo che vede la partecipazione di numerosi musicisti imperiesi patrocinati da numerose associazioni culturali imperiesi. vi leggo qualche nome. Per Pantamusica, Giovanni Gandolfo, Ines Liprandi, Valte Ferrandi e Maurizio Pettigiani. Ci sarà la mezzo soprano Ione Iori con al pianoforte Massimiliano Via Piano. Per Music Lab Imperia, Marina Remaggi, con Paolo Emanuele Ferrigato. La soprano Iosella Ligi con al pianoforte Luisa Repola, cura dei Circo Amici della Lirica. E infine l'ensemble strumentale della Belle Epoque, Massimiliano Patetta, Sonia Rampini, Elisabeth Dubois, Lucia Papalardo, Nadia Spagnolo, Natascia Frataioli, Claudio Rossi, Giancarlo Bacchi, Monica Lizzeri e Piera Raineri. Presenterà Paola Scheri. L'appuntamento ovviamente è gratuito e l'ingresso è libero fino ovviamente a esaurimento dei posti. Quindi questo sabato al Teatro Cavour, poi so che domenica ci sono anche altri eventi, Macchine d'Epoca. Domenica mattina ci sono due eventi praticamente in contemporanea, le Autostory che inizieranno un breve tragitto a partire dal solettone del Palazzo Comunale attorno alle 9. Contestualmente al Palazzo dello Sport c'è il primo trofeo Memoria al Mario Todde, a cura di due società sportive imperiesi. E nel pomeriggio c'è il compleanno diciamo dei più anziani a cura del centro intergenerazionale Carpe Diem che è sito sull'argine, ci sarà, sono stati invitati tutti coloro che compiano 90 anni nel 2013. E quindi una festa fino in fondo e poi arriviamo a lunedì, giornata clou, Presidente Strescino, perché al mattino alle 10 c'è la celebrazione della Messa Cristo Re, poi l'appuntamento è alle 16 con il Consiglio Comunale, una seduta solenne. Beh sì, si sta fortemente lavorando anche col Sindaco che è ancora fuori Imperia, ma insomma è sempre ovviamente presente per valutare insieme questo tipo di iniziative. Alle 16 lunedì ci sarà appunto il Consiglio Comunale sulla celebrazione dei 90 anni della città d'Imperia. Sarà un Consiglio Comunale particolare perché oltre al conferimento delle cittadinanze onorarie a due personaggi, uno imperiese di nascita, anche lo scrittore Beppe Conte, uno diremmo d'adozione, il giornalista Cristiano Chiavegato, ci saranno anche due prolusioni ufficiali del Cavaliere del Lavoro Carlo Carli e di Miro Genovese che è persona che ha svolto una grandissima attività sotto il profilo dell'associazionismo in questi anni ad Imperia. E il tutto intrammezzato da la Camerata Musicale Ligure che svolgerà tre pezzi, il primo ovviamente è l'Ino di Mameli in apertura, più altre due che ad oggi magari non svediamo, svederemo tramite un comunicato stampo. Quindi sarà un momento davvero significativo ritengo per tutta la città. Alle 21, sempre al Teatro Cavour, sempre ad ingresso gratuito per la cittadinanza, il concerto della Camerata Musicale Ligure che mi preme sottolineare, insieme alla sorella Serafini e al sindaco, se ne è discusso molto, sono tutti imperiesi o di nascita o di adozione. Parliamo di un gruppo di altissimo profilo, di altissimo livello, hanno suonato in tutto il mondo, hanno ottenuto riconoscimenti dalle più alte cariche dello Stato. E quindi è un onore mettere insieme non solo questo concerto ma anche il Consiglio Comunale dove passano tante generazioni di imperiesi. Credo che il lavoro fatto in questo caso dall'Assessorato alla Cultura e alle manifestazioni sia davvero egregio perché si è riusciti in poco tempo, con praticamente zero spese, a dare anche la possibilità a tantissime realtà cittadine di esprimersi e di celebrare tutti insieme il compleanno della nostra città. Questa sera alle 21.10 su Imperia TV andrà in onda un ugo speciale dedicato alla 44esima edizione della Festa della Castagna che si svolta lo scorso fine settimana a Montecrosso Pianlatte. Durante la trasmissione saranno mostrati i momenti più significativi della tre giorni con la visita delle scuole del venerdì, il gemellaggio con la cittadina francese di Pontevesse e la festa di domenica. Sabato alle 17.00 nella Biblioteca Prosiana di Ventimiglia ci si trarà la presentazione dell'antologia Antonio Rubino e l'amore per la Liguria. Rubino, figlio illustre di Sanremo, riconosciuto universalmente come uno dei più grandi illustratori del Novecento. Ora andiamo a vedere che succede lungo l'autostrada dei Fiori, poi breve spazio pubblicitario e ci rivedremo quindi per il quadro meteorologico fra poco. Vediamo i cantieri sul tratto della 10, Savona, confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico dal lunedì 14 a domenica 20 ottobre. In direzione Francia, careggiata nord, tra Imperio Est ed Imperio Ovest, riduzione di careggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica dal lunedì a venerdì anche notturno. Tra Bordigliere e Ventimiglia, careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a venerdì anche notturno. Tra 20 miglia e Mentone, riduzione di careggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Latte, da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, careggiata sud, tra 20 miglia a Bordigliere a scambio di careggiata per il rifascimento della pavimentazione ai viadotti Nervia e Valle Crosia, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperio Ovest ed Imperio Est, riduzione di careggiata per l'installazione di barriere antirumore e mitigazione acustica, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Sareme e Albenga, da lunedì a venerdì sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe che interesserà la sola corsia di marcia. Siamo al meteo, andiamo a scoprire cosa ci dicono gli esperti di Arpal Meteo Liguria. Domani, venerdì 18 ottobre, la giornata sarà caratterizzata da addensamenti e foschie più consistenti a Ponente a causa dell'instaurarsi di un debole flusso umido ai bassi livelli. Nuvolosità variabile a Levante con parziali schiarite, aumento delle nubi, addensamenti in serata fino a cieli molto nuvolosi, soprattutto sulla fascia costiera. Umidità in aumento a partire da Ponente, venti deboli variabili in locale regime di brezza con rinforzi orientali. Mare poco mosso e nessuna, segnalazione di protezione civile, meno male. Dopodomani, sabato 19 ottobre, flusso umido e maccaioso caratterizzato da nubi marittimo costiere a tratti anche consistenti con possibilità di deboli piovaschi più probabili a Ponente. Umidità su valori alti, venti da est-sud-est deboli o moderati, da nord-est a Ponente. Il mare da poco mosso ha mosso a Levante per onda corta da sud-est. Anche qui nessuna segnalazione di protezione civile, nemmeno per sabato. E con questo ci fermiamo con i nostri 80 notizie. Vi do appuntamento a domani per restare sempre informati su Imperia TV, ma ricordatevi che c'è anche Facebook, Twitter e naturalmente Imperia TV.it. Grazie per il vostro cortese ascolto, Andrea Pomati e auguro di trascorrere una buona serata. Arrivederci.